Sicuramente il tuo lavoro è stare tutto il tempo al computer, così non ti aiuta e questa zona ti si increcca sempre, molto facilmente. E visto che è importante staccare gli occhi e la testa dal computer, perché così puoi rinfrescarti la mente e poter ragionare meglio, approfittano anche per fare degli esercizi per scaricare questa zona. Te ne do tre. Il primo, springi i glutei e porta le braccia indietro, notando tutta questa parte che pira. Il secondo, rilascia tutta la parte posteriore andando verso il basso e buttando poi l'aria. Il terzo è un po' più dinamico, porti indietro la gamba sinistra e alzi il braccio sinistro inclinando il corpo. E poi ripeti con la gamba contraria, porti indietro la destra, alzi il braccio destro inclinando il corpo. E questi sono tre esercizi che ti aiuteranno a scaricare la zona. E anche questo vuol dire essere allenatore di se stessi. Seguimi per altri contenuti.